Le elezioni europee, l'impatto significativo su Scholtz e Macron. Rapporto sulle elezioni europee in Francia. Scossa politica, grandi perdite per Scholtz e Macron alle elezioni europee. Le recenti elezioni europee in Francia hanno notevolmente scosso il panorama politico. Con pesanti perdite per i partiti stabiliti di Emmanuel Macron e Olaf Scholz, si prospetta una chiara vittoria per il partito nazionalista di destra Rassemblement National, RN. Il partito guidato da Marine Le Pen ha ottenuto successi impressionanti e ha potuto consolidare ulteriormente la sua posizione come forza politica principale in Francia. Particolarmente degno di nota è l'ascesa di Jordan Bardella, che come candidato principale dell'RN ha contribuito significativamente al successo. Secondo le prime proiezioni, la RN è riuscita a ottenere oltre il 25% dei voti. Questo notevole successo è il risultato di un grande disagio degli elettori nei confronti della politica attuale sia in Francia che in Germania. Emmanuel Macron, che si considera un sostenitore di un'Europa più integrata, ha subito notevoli perdite. Il suo partito, la Repubblica e Marche, LREM, è riuscito a ottenere solo il 20% dei voti, registrando un netto calo rispetto alle ultime elezioni europee. In particolare, è stato criticato il modo in cui Macron ha gestito la crisi durante la pandemia di Covid-19, così come le sue contestate riforme del sistema pensionistico, dai votanti. Questi fattori hanno svolto un ruolo essenziale nella decisione dei cittadini francesi di dare il loro voto all'RN. Marine Le Pen e Jordan Bardella sono riusciti abilmente a sfruttare l'attuale insoddisfazione e a trasmettere con successo la propria agenda euroscettica e nazionalista. Jordan Bardella, considerato un giovane e dinamico politico, si è rivelato un potente alleato e un potenziale successore di Marine Le Pen. Sotto la sua guida, il RN è riuscito a conquistare i giovani e contemporaneamente a mobilitare la propria tradizionale base di sostenitori. I risultati delle elezioni sollevano anche la questione su come sarà il futuro dell'Unione Europea. Con il rafforzamento delle forze euroscettiche, come il Rassemblement National in Francia e movimenti simili in altri Stati membri, l'UE potrebbe trovarsi di fronte a sfide fondamentali. La possibilità di un'Europa più frammentata e meno cooperativa diventa sempre più probabile. Gli analisti e gli esperti politici concordano sul fatto che i prossimi anni saranno cruciali per il futuro dell'integrazione europea. I partiti tradizionali devono rivedere le proprie strategie e tener conto delle crescenti preoccupazioni dei cittadini per non perdere ulteriormente la propria rilevanza. Il risultato delle elezioni in Francia e in Germania potrebbe servire da campanello d'allarme per avviare una riorientazione della politica europea. Il netto successo di Scholz e Macron alle elezioni europee mostra quanto sia profondamente calato il livello di fiducia nell'attuale leadership politica. Resta da vedere come si evolveranno le dinamiche politiche nei prossimi anni e quale sarà il corso che l'Unione Europea intraprenderà. Tuttavia, è chiaro che i prossimi passi dei politici dovranno essere compiuti con grande attenzione e lungimiranza per preservare l'unità e la stabilità in Europa. Autore Anita Faack, lunedì giugno.